In sinistra G40, in sinistra 3 gira, in sinistra 3, sinistra 2 gira, 20, sinistra 2, in destra 3 gira, 30, destra 2, in destra sinistra 2, gira, gira, in sinistra, in sinistra 50, sinistra 3, gira, destra 3 subito, sinistra 2, gira, 20, sinistra 2, in destra 3 gira, 30, in destra 2, in destra sinistra 2, gira, gira, Shigan è entrata a destra, questo è lungo no? Sì, peca sinistra 50, sinistra 3, gira, destra 3, subito, sinistra 2, gira, sinistra 2, gira, 20, sinistra 2, destra 3, gira, 30, gira, destra 2, destra 2, destra 2, gira, 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 andiamo a un verso, poi siamo, si, si canne tra la destra da sinistra gicoata, sinistra 3 gira sinistra 3 zubilo, sinistra 2 gira venti sinistra 2 destra 3 gira venti destra 2 destra di destra 2 gira, gira gira